Benvenuti da Naro Sensei Quanti di voi pensano di poter navigare su internet e non essere spiati? Alzino la mano Non vi vedo, ma so che qualcuno di voi sicuramente pensa di essere a posto Magari perché utilizza un adblock particolare Perché utilizza qualche browser che gli cambia un po' la VPN, i proxy ecc Ma in realtà bisogna stare veramente molto attenti Perché? Perché lo spionaggio delle nostre caratteristiche, dei nostri dati personali Tutto quanto quello che riguarda lo spionaggio e la vendita dei nostri dati È sempre in continua evoluzione Perciò bisogna stare sempre molto attenti e sapere esattamente cosa possono fare per spiarci Io ho fatto svariati video in cui faccio vedere tramite i tutorial come proteggersi utilizzando vari programmi Tra i più famosi consiglio di utilizzare ProtonVPN come VPN gratuita O consiglio di utilizzare Epic Privacy Browser, Brave Browser, Tor, ecc Oggi vi insegno un altro trucchetto Partiamo con Brave Browser, ok? O qualsiasi Io vi linko sotto e ho anche linkato in altri video Questo bellissimo indirizzo che ci fornisce il buon ExpressVPN Ora, oscurerò il mio indirizzo IP così nessuno viene a darmi fastidio gentilmente Ma ve lo faccio comunque capire cosa volevo in mente Allora, con questo bel sito cosa ci da ExpressVPN che è una delle migliori in assoluto VPN a pagamento del settore Qua ci dice intanto se il nostro VPN è funzionante o meno Che sia una proxy o altro Facendo cosa? Dicendoci la nostra posizione, il nostro indirizzo IP attuale Dicendo esattamente dove abitiamo o qual è il nostro provider E tante altre piccole robette Come fare per evitare questo discorso? Logicamente usando dei prodotti più o meno validi Che adesso vi andrò a consigliare Un'altra cosa molto importante oltre all'indirizzo IP E' l'esposizione ai DNS I DNS, per chi non lo sapesse Sono una specie di indirizzo IP secondario Che va a dare le caratteristiche e tutto quello che facciamo Ha il nostro provider di connessione internet Cosa significa? Che chi ci da la connessione internet Può spiare e sapere qualsiasi cosa noi facciamo Molto molto bello Loro possono fare con i nostri dati quello che vogliono Perché nei contrattini le scritte in piccolo ci sono dappertutto E quindi loro fanno i soldi così a nostre spese Questo è un modo per controllare di essere protetti Come vedete non sono protetto Poi c'è anche l'esposizione alla WebRTC La WebRTC è un sistema Tra parentesi Bastanza recente Che serve per evitare Il collegamento tra due computer Tra due browser Attraverso un server In questa maniera I due browser possono comunicare Molto più velocemente E ci sono svariati vantaggi A livello di programmazione A livello di videochiamate A livello di programmi in genere Però La connessione è Tra parentesi Libera Aperta E tutti quelli che Si connettono tramite Queste Chiamiamole porte aperte Ci possono spiare E sanno addirittura Il nostro IPV4 Che è praticamente il nostro Indirizzo Quello là Pubblico Che non è assolutamente Da far vedere A nessuno Ecco perché Io oscuro Detto questo Come si fa A bloccare Queste cose Ed essere sicuri Beh Con questo Con questa paginetta Avete Tre test Molto molto semplici Infatti vi basterà cliccare Su queste tre Tabelline E vi esce Se siete protetti o meno Fate i vostri test Il mio test Che consiglio prima di tutto È questo Allora Se utilizzate Brave Andate Sulle impostazioni Ok Una delle cose principali Da fare È andare su Protezioni Scorrere giù la pagina Fino in fondo E andare qui Su politica gestione IP Web RTC Da default Bisogna mettere UDP Senza proxy Una volta fatto questo Si esce Ok Si può uscire Andare su qualsiasi altra schermata Possiamo rientrare E ricontrollare Che sia attivo E come vedete Disabilità UDP Senza proxy Ok Ora Vedete Il web RTC Che lo stato è Pubblico Potenzialmente C'è una perdita In rosso Se io premo F5 Adesso Magicamente Il web RTC Non è più disponibile Quindi Siamo protetti Questo è Valido Per Questo servizio Ok Per gli altri due servizi Vi spiego A breve Facciamo questa modifica Anche sul nostro Fantastico Opera Ok Apriamo Opera Andiamo sul nostro menu Impostazioni Andiamo su avanzate Riservatezza E sicurezza E qui Andiamo giù 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 Fino ad arrivare Al nostro web RTC E anche qui Disabilità UDP Senza proxy Ora Se io mi riprendo La pagina di prima Come vedete qua Si vede Tutto quanto Ma Anche qui Il test Web RTC È sparito Non è più visibile Quindi Noi siamo Tra parentesi Protetti Da questa parte E in maniera Totalmente Passiva Ok Non c'è nessuno Che ci può rompere Che ci può rompere il valle Qual è l'altro sistema Se avete Un qualsiasi Altro browser Semplicissimo Il mio consiglio È utilizzare Delle estensioni Certificate E valide Una delle mie Preferite Adguard Dovreste saperlo Perché ne ho parlato Un sacco di volte Adguard Ce lo andiamo A impostare Come Lui di base Blocca Tutto quello che serve Lo spam Gli addi Eccetera Se volete bloccare Anche queste cose Dovete andare su Stealth mode Ok E attivare Una volta attivato Qua ci fa L'autodistruzione Dei cookie Di tante robette Ci nasconde Nelle queries Che è molto importante E possiamo abilitare Il blocco Dei web RTC Proprio È una cosa da fare Fisicamente Perché ci chiede La conferma Un permesso Se noi facciamo Consenti Adesso Il nostro Adguard Ci para Le chiappe Anche in questo Ok È Tanta 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 Roba Altro sistema Molto valido Da Tenere sotto Presente È La nostra VPN Gratuita Di Opera Andiamo Sopra La VPN Clicchiamo On Lui ci mette Europa In genere Con un diritto IP fittizio Premiamo F5 E adesso Praticamente Oltre ad avere Il web RTC Non più disponibile Abbiamo Sul DNS Invece Di darmi Il mio Gestore Telefonico Mi da Come paese L'Olanda Niederland Con tutti i vari Indirizzi IP Ed è La nostra Bellissima VPN Che ci para Le chiappe Quindi Siamo esposti Tecnicamente Sì Ma Non siamo esposti Noi Ma è esposto Il paese Fittizio Stessa cosa Per l'indirizzo IP La tua posizione esatta Non può essere Determinata Perché Perché il provider Adesso è Opera Mini Proxy Quindi siamo parati E ripeto La velocità Non è per niente male Su Opera VPN È illimitata E gratuita Quindi Sfruttatela Affinché potete Europa America Asia È un po' pochetto Ma È tutto quello Che ci serve Per avere tutto A portata di mano E veramente Pararsi le chiappe Per fare altre cose simili Senza Utilizzare Opera Possiamo farlo Con Epic Privacy Browser Che lui Di base Avendo la nostra Proxy Già Attiva Se Proviamo A incollare La nostra Nostro test Di Express VPN Vediamo che Il nostro indirizzo IP Adesso È situato In Germania Quindi Per lui Noi siamo in Germania Il test Disposizione DNS Ci dice Ancora una volta Voi siete in Germania Ok Perfetto E il WebRTC Di base È In questo bellissimo browser Già bloccato Eccolo qua Ecco perché vi dico Provate A utilizzare Nuovi browser Ecco perché Epic Privacy Browser È una bomba Perché Per la protezione È forse Il numero uno In assoluto Ma perché Perché non vi lascia Modificare niente Lui Ha già la protezione In tutto Così è E così Ve lo beccate Se non vi va bene Utilizzate un altro browser La terza Scelta che potete fare È utilizzare Un'estensione Aggiuntiva Diversa Carina Vi faccio vedere Su Brave browser Allora Noi andiamo su Impostazioni Estensioni Gestisci Estensioni Qua Qua C'è Un bellissimo link In cui Vi fa aprire Tutte Le estensioni Scaricabili Di Chrome Perché alla fine Brave È un Chrome Modificato Qui vi cercate Tra le tante cose Che potete fare Zenmate VPN Eccola qui Potete anche Abilitarla O meno Su Su Vari siti Eccetera Anche Consenti modalità In incognito Ci può stare Ok E Cosa fa di bello Allora Intanto la attiviamo E qua in alto a destra Ci da Il nostro Scudino Se lo apriamo Andiamo qua E ci dice Adesso siamo connessi In Romania Romania Non mi piace Perché è troppo distante Io voglio Germania Giriamo in Germania E adesso Tecnicamente Siamo in Germania Ok L'esperimento Che volevo fare Si può fare Lo stesso Come vedete Ci da un altro Indirizzo IP In Germania Il DNS Sempre in Germania E il web RTC È ovviamente È bloccato È bloccato In questo momento Perché Abbiamo impostato Prima Brave Browser Ma Se Noi siamo interessati Solo a Acceso Spento Grazie Ad esempio A ZenMate Possiamo Andare sul Setting E tra le impostazioni E tra le impostazioni C'è proprio Un WebRTC Protect Noi diamo Ok E come Abbiamo fatto anche Dall'altra parte Si da Permetti Proprio perché È un'opzione Che va Confermata Ora Nel setting Ce l'abbiamo E lui Anche se Non abbiamo Browser modificati Lui ce lo blocca La cosa bella Di ZenMate È che è una vera e propria VPN Barra proxy Che ci blocca Di tutto Ci fa Modificare La locazione È illimitato E gratis E funziona Veramente bene Ne ho provati Tanti Ne ho provate Tante di estensioni Ma questa qua È l'unica Che vi para Le chiappe Sia sul WebRTC Sia sul DNS E sia sull'indirizzo IP Le altre Fanno Uno O Un'altra Cosa E quindi siete scoperti Da qualche parte Personalmente Considero questa Come la mia preferita Speriamo Che esca qualcosa Di ancora più figo Ok Con più server Con più funzioni Eh Prossimamente Altra cosa Molto importante Se andate a provare Per esempio Non so Hotspot Sheld Come Estensione Touch VPN Windscribe O VPN Sono tutte estensioni Che si trovano facilmente Sullo store Cliccando VPN Eccole qua Trovate anche ZenMate Al primo posto Oppure Andando in cerca Di proxy Ve ne trova Una camionata E ve le potete Cercare Anche con Indirizzo IP Adblock Tutte queste cose qua Sappiate che Tutte queste Bellissime estensioni Hola free Poi è una delle top Proprio per Spiarvi Malissimo Infatti Queste estensioni Queste VPN Tra parentesi Gratuite Che vi offrono Il mondo Senza motivo E lo fanno Perché Perché loro Se vi nascondono Dagli altri siti Ma raccolgono Loro Le vostre informazioni Per poi Rivenderle Perché devono Puro Mangiare Per restare In vita Mentre Confido Su Zenmate Perché Il motivo È più semplice C'è una versione Ultimate E una versione Premium A pagamento Con cui Loro Continuano A Mantenere Gli sviluppatori Continuano A pagare Tutti i costi Che hanno Si sono impegnati Veramente tanto E come azienda È molto Molto Grossa Quindi Tra tutte quante Quelle che posso Pensare Di consigliare Questa è La migliore Mi sembra Di avervi detto Tutto Tenete comunque Gli occhi aperti E date un occhio A Proton VPN E A Tutto quello Che magari Riesco a consigliarvi Anche prossimamente Se il video È stato utile Iscrivetevi Al canale Spammate Il mio nome A Proprio Ai quattro angoli Del mondo E Guardatevi il resto Di miei video Che magari Vi fa sempre piacere Beccare qualcosa Di nuovo Provando magari Browser Eccetera Che vi ho consigliato Precedentemente Dubbi o domande Resto a disposizione Potete scrivermi sotto E cercherò di Rispondervi Più velocemente Possibile Magari Anche a farvi un video Dedicato Mi è già capitato Svariate volte Di creare video Anche per solo Un Un follower Però Va sempre bene Se riesco ad aiutare Almeno una persona Con ogni video La mia vita È più felice Ok dai Mi pare di aver detto Abbastanza Fatti i bravi E al prossimo video Bye bye Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti